Buonasera signori e signori e benvenuti a questo bellissimo round, il 3rd round del GTT Dynamic Builder Cup organizzato da BT Paddock. Sono Marco Albertini e al commento e anche in regia c'è Riccardo Puccetti, buonasera Riccardo. Ciao a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti in questa terza tappa del Dynamic Weather. Adesso siamo qua a Donington Park, una pista che si trova nel Regno Unito, una pista abbastanza conosciuta per una sola gara, se sei un fan della Formula 1 per il Gran Fiamme Europeo del 1993, ma se Formisano prende i cordoli e scivola e ritorna in pista in un modo abbastanza interessante, però questa pista qua è conosciuta per il fatto che è una di quelle piste lì inglesi come Alton Park e Snatterton, che sono un po' vecchio stile, che al posto di avere quintali di asfalto come Ranoff, hanno l'erba e dei muri abbastanza solidi, forse anche un po' di ghiaia. Ranoff è una pista che attualmente ospita Formula 4 britannica, GB3, GB4 e anche il GT britannico, però è una pista che ce l'ha molto molto tempo, credo da più di 60 anni, se mi sbaglio poi Riccardo puoi anche correggermi, però è una pista con tanta storia dietro, che ospita anche il BTCC, che usa questo bellissimo layout, il layout Gran Premio, che usa il tornante Melbourne, sperando di non non mi dare le curve giuste, che è un bel posto dove fare sorpassi. Però Riccardo, cosa ne pensi di questa bella pista? È una pista sicuramente interessante, che vediamo poco su ACC per vari motivi, devo dire, per il fatto che magari non è proprio super popolare e le condizioni anche di stasera non sono proprio super comuni da vedere, pioggia direi abbastanza importante, pioggia che comunque notiamo con una piuttosta intensità, non è allagato chiaramente, ma insomma la pioggia c'è e si vede, sicuramente intanto vediamo anche qualche problema con la pioggia, qualche Porsche che la sbinna, diciamo, ecco così, infatti purtroppo ha qualche problema nella prima parte del tracciato, la pioggia che appunto, secondo me, darà non pochi problemi. Esatto, però questo qua è il metodo dinamico, quindi non si saprà con certezza che il metodo ci avremo in gara, adesso guardiamo Senza Amici, che finisce curva 1, andiamo su Viola che è il tornante Melbourne, la penultima curva della... si sta migliorando, si sta migliorando un po', però purtroppo mi sa che è invalidato il giro e forse riproverà adesso. Solo 6 minuti mancano in questa sessione di qualifica, adesso vediamo Viola che finisce il giro sul traguardo e mette un tempo, attualmente ultimo, 6 secondi dalla pole, attualmente in sedicesima posizione. Attenzione Marini, eccolo qua, del team sotto zero, forse sotto zero, anzi, mi perdonate per questo piccolo errore, è sotto di ben un secondo e due, adesso sta perdendo molto per via del traffico, lo vedete qui alla chicane del Donington, che poi in realtà è la sezione che si collega anche alla versione club, la più conosciuta forse, anche per Toca Racing Driver, che è uno dei giochi magari più legati all'infanzia di molto, almeno per quanto mi riguarda sicuramente, è un tracciato che ospita principalmente il BTCC, il BT Touring Car Championship, che ormai dal 2022 vede l'introduzione dei regolamenti ibridi, piccolo generatore che dà questo boost, un po' come la modalità sorpasso in superformula, più o meno la formula è proprio la stessa, scusate il gioco di parole, però siamo sempre lì ecco. Intanto Marini che chiude il giro, anche se non riesce a migliorarsi al momento, vedo un secondo e sei, vedete, già mezzo secondo in curva uno, direi un gap piuttosto importante. Un gap abbastanza interessante, vediamo Zanotti su Lamborghini, che attualmente è in polprovvisoria, con un distacco abbastanza grande tra lui e il secondo posto di Dorazio, mentre vediamo una McLaren che va per campi all'uscita di curva uno, e adesso si troverà in Scozia per quanto lungo è andato, però Zanotti si avvicina al tornante vecchio, prende il cordolo e va fuori pista, ricordiamoci, prende il cordolo lì non è tanto ideale sul bagnato, perché non c'è un'aderenza, mentre vediamo Dorazio che sta migliorando e migliora sta di un secondo e si mette solo a quattro decimi dietro a Zanotti, però sta in seconda posizione, mentre adesso fa questa bella sezione qua in discesa nell'ES, mentre Bellissario e Scutari prende la pole su Zanotti da due decimi alla Lamborghini, quindi con pochi minuti di qualifica stiamo vedendo qualcosa di interessante, una Porsche in pole provvisoria su Lamborghini, Aston Martin, Ferrari e McLaren con un BMW in P6, però Carriera inizia un altro giro, non so se ha migliorato, però vedo che si sta facendo una linea abbastanza definita, un po' nera in pista, poi credo che forse le condizioni si stanno migliorando, a meno che Riccardo non abbia notizie sulla condizione in pista? No, purtroppo le condizioni in pista non sono destinate a migliorare, almeno in questa qualifica, staremo a vedere in gara, poi chiaramente mancano 3 minuti e 35, quindi io credo che le condizioni siano abbastanza irrilevanti, anche perché le auto girano, tolgono acqua, non sta piovendo al momento, almeno non sta piovendo forte, quindi rimarranno più o meno uguali fino alla fine di questa sessione di qualifiche, intanto abbiamo qui Azzolini, non riesco a capire bene perché il nome è impostato male, però Azzolini che in questo momento sta togliendo ben 1 secondo e 15, e quindi si piazzerebbe virtualmente in settima posizione, non male assolutamente per il pilota GIC, gruppo Iguana Corsa, numero 64 per la sua Ferrari 296 GT3, vediamo se riesce a togliere qualcos'altro, adesso ho perso un po', due decimi, vediamo se riesce a chiudere Marco. Vediamo se riesce a chiudere in un bel modo, si sta migliorando, quanto vediamo di un secondo, però va molto lungo, probabilmente sta cercando di avere una buona uscita all'ultima curva, però perde 6 decimi cruciali e si mette in nona posizione, mentre vediamo Dorazzi in pole, Dorazio e Quadrini rubano la pole a Scuttari, quindi Carlo Dorazio in pole per Ferrari. E attenzione perché aveva anche un giro migliore qua, aveva circa 60 decimi, scusate, 6 decimi in meno rispetto al suo giro migliore, ma purtroppo è andato lungo. Nella sezione più avanzata del tracciato abbiamo anche Casella che si sta migliorando parecchio, eccolo qua, sulla somma di carrile 184, un secondo e 4 sotto addirittura, potrebbe balzare tantissime posizioni, infatti così pieti per lui. Noto che in settima posizione c'è Emirates, una persona nota per essere veloce in queste condizioni qua. Settimo, stranamente non nelle prime posizioni, mentre vediamo Carriera che sta migliorando di un secondo, mentre ci avviciniamo alla chicane, la famosissima chicane di Donington Park, in discesa, si mette in mezzo alla pista per fare… no, non si mette più in mezzo alla pista, freni in mezzo alla pista, però allarga un po' l'entrata, prende i cordoli e cercava un'uscita abbastanza dritta, perché così che si guida sul bagnato… Carriera perde tempo, adesso stai guadagnando tempo, quindi potrebbe ancora migliore il tempo. Endy cesa va, è uscita all'ultima curva, perde altri due decimi, però Carriera migliora vai in ventesima posizione, migliora di pochi decimi tra l'altro, però è un miglioramento lo stesso, mentre vediamo un'autoferma a Shikamed. Zanotto si è disconnesso ragazzi, avete visto un piccolo errore, ma perché Zanotto ha proprio lasciato la stanza e si ritrova fuori… ah no, eccolo qua, è ritornato, è tutto un piccolo spike di connessione, lo ritroviamo adesso… Quasi tre secondi, sta migliorando quasi tre secondi, questo potrebbe essere un buon risultato, decimo, si mette attualmente decimo, ultimo giro per tutti, qualifiche terminate, c'è il tempo delle qualifiche terminato, adesso vediamo se qualcuno riusciva a migliorarsi, schiuma verso il tornantino Melbourne, vediamo se può continuare a migliorare e se migliora potrebbe essere un buon tempo, però va lunghissimo e questo costa tanto tempo, però se almeno stia riguadagnando in uscita, ha sempre un secondo sul suo tempo, quindi potrebbe avere un buon giro qua… Andrebbe sesto, andrebbe sesto praticamente… Adesso vediamo, settimo, settimo, anzi ottavo, Azzolini si migliora lì dietro… Attenzione perché abbiamo altri che si stanno migliorando, attenzione a Paoli in questo momento, in ultima curva, un secondo sotto addirittura potrebbe essere Paul… No, ha perso un pochettino, è uscito dall'ultima curva, cos'è? Secondo! 65 millesimi dalla pole, Lamborghini, doppia fila, cioè prima fila Lamborghini, però vediamo Emirates che sta migliorando di quattro decimi, la McLaren che è famosa, cioè la McLaren con il piota che è famoso per essere buono in questo tipo di condizioni, sta guadagnando tanto tempo tempo, ma ancora però prende l'erba, però non è ideale, non è ideale, quasi perde l'auto e non si migliora, che sessione di qualifica, Riccardo! Sì, decisamente emozionante, molti errori li abbiamo visti, la pioggia ha messo in difficoltà decisamente i nostri eroi, i nostri piloti, Piola qui stava per fare un gran giro, almeno aveva un delta molto interessante, un secondo e due sotto, però vedete quanto la classifica sia ampia, ma torniamo sulla pole di Zanotti in questo momento con 1.37.707 a 65 millesimi da Paolo, veramente pochi e anche Bellisario comunque mostra pochissimi tempi, se così si può dire. Adesso un minuto e 52 prima della gara, abbiamo dei pronostici? In realtà no, perché è veramente una gara dove potrebbe succedere di tutto, potrebbe veramente esserci qualsiasi colpo di scena, quindi non mi sento di fare pronostici, tanto scusate faccio un piccolo esperimento, eccoci qua, siamo tornati con il nostro classico layout, mappa a destra e poi a sinistra la tabella dei tempi e sotto ovviamente nome, cognome, nome e chiaramente numero di gara. Zanotti in pole position, poi Paoli in seconda posizione, Bellisario in terza, Quadrini in quarta, Dorazio in quinta, Cuttari, Azzolini, Schiuma, Santoro e Formisano chiudono la top ten, poi vediamo De Pasquale, Galardi, Zanotto, Emirates, Persico, Gasperini, Isacco, Casella, Marini, Luigi, Biffi, Viola, Galimberti in ventitresima posizione e poi chiude la seconda parte della griglia, della gara, insomma, lo schieramento che vediamo qui a Donington, Varrani, Alaimo del gruppo Iguonacorse, Beccali del VT Paddock, Senza Amici, Capponi, Ferrari, Carriera, Donchi, Mas, Farsura, Paoli e Cabuso in trenticinquesimo posizione. Bene Marco, allora, cosa ne pensi di questo, direi, tempo un po' proibitivo? Secondo me la pioggia è anche aumentata, quindi attenzione perché veramente potrebbe succedere di tutto e sta per iniziare appunto il giro di formazione. ricordo a tutti voi spettatori di seguirci, di mettere appunto il follow per aiutarci appunto a crescere anche qui su Twitch e ricordatevi ovviamente di seguirci anche su YouTube, sull'altra piattaforma, così si può dire. Sì, adesso il countdown è finito, quindi il giro di formazione è iniziato. Dopo questo giro di formazione ci aspetta un'ora e cinque minuti di gara. Però, come sempre facciamo, facciamo una piccola guida a questa bella pista di Donington Park. Tutto inizia da questo rettino di partenza che, ops, siamo oltre a curva 1, che è una curva a media velocità che non è tanto ideale per i sorpassi, però puoi fare un sorpasso, però devi considerare che dopo curva 1 c'è questo bel tratto in discesa che porta verso il vecchio tornante che non sembra tanto un tornante, però è più una curva veloce adesso, però è una sezione molto bella. Però se due auto vanno una accanto all'altra verso questa sezione qua, una di quelle dovrà alzare il piede, perché in questa curva qua è molto difficile stare side by side per la natura e anche per il fatto che non è tanto spaziosa. Però all'uscita del tornante vecchio, che trovi una bella sezione in salita, vediamo qualcuno che va fuori, interessantemente, però è una sezione che porta a un altro tornante, una zona per... si potrebbe fare un sorpasso qua e non sarebbe tanto strano vederlo, anche perché è un po' più spaziosa, però bisogna tenere conto che in questa connessione qua, per ne ricordo in uscita, sarebbe un po' non ideale. Poi siamo in salita per questa curva qua a destra, che ha un'uscita abbastanza curva, quindi bisogna stare attenti con l'applicazione all'acceleratore, mentre vediamo una Porsche che va fuori, stranamente, e poi alla fine di questa curva qua c'è un bel rettilineo che poi va in discesa per la chicane, che tutti conosciamo, mentre Emirates va nei pit, ovviamente, e la chicane è un po'... Un po' di difficoltà tecniche, ecco. Stanno facendo bowling la chicane, e niente, un sorpasso si può fare al tornante a Melbourne e anche all'ultima curva, che sono due curva abbastanza larghe, che invitano il sorpasso, però l'ultima curva è un po' difficile, perché va in discesa e l'effetto sottosezzo può avere un effetto abbastanza grande sulla tua mossa, però adesso ci prepariamo a iniziare questa gara qua, e il round 3 del Dynamic Weather Cup del BT Paddock è... non ancora... Manca poco. Partito, manca... è partito, e qualcuno prende già un... due persone prendono un drive-thru, mentre vediamo Zanotti, curva 1 che... C'è contatto dietro! C'è contatto dietro, Paoli e Bellissario si toccano, entrambi perdono il controllo dell'auto, però Zanotti continua a estendere il gap, dal P2, però c'è un mega incidente dietro il curone, Zanotti quasi va fuori! Mentre... Noto che Beccai ha preso un drive-thru, probabilmente per essere stato in posizione non corretta, alla fine del giro di formazione, però Zanotti, già un secondo davanti a Dorazio... Attenzione dietro, vediamo anche delle lotte, Zanotto anche... Zanotto che va all'esterno, prova ad andare all'esterno in questo tornante qua, però non c'è a fa... Uh, dietro! Oh, c'è contatto dietro! Ho visto un BMW fuori... Persico, Beccagli... E non... Una gara... sta facendo da male in peggio per Beccagli, dal drive-thru a... da in ghiai, vedo che un'altra auto è andata fuori, vedo anche un'altra bandiera gialla... Però, un'apparenza caotica... Oh! Oh! C'è contatto! C'è contatto! Alla chicane! Ho visto... Che... Qualcuno ha frenato molto tardi, non ho capito bene chi era, però... C'è stato un contatto abbastanza severo... Alla chicane... Però... Vediamo altre persone... Sì, vanno fuori! Un altro... No, vabbè... Questa è proprio una carambolona da biliardo che ti darebbe tutti i punti possibili, immaginabili... Cioè, chi doveva essere preso è stato preso qua, purtroppo... Questa è... è una giocata bowling qua... Eh... Però... Attenzione a Santoro che si è preso la seconda posizione su Dorazio, un po' anche a sorpresa... Dorazio sta un po' faticando, ma attenzione a Zanotti, due secondi e sette davanti... Vedo anche Scuttari, molto vicino... Oh, Scuttari... No, Scuttari e Azzolini fuori all'Old Herpin... Però Scuttari torna in pista senza tanti problemi... Però si fa passare da Formisano... Che... Attenzione anche dietro... Ancora... No, anche dietro, curva uno... Senza amici fuori... Alaimo fuori... Anche Bellisario ha qualche problema... Eccolo qua che appunto rientra adesso... Viene superato dalla Porsche di Camuso... Vanno intanto insieme, forse... Si lasciano andare tranquillamente... Tanto anche Donchi... Altri problemi... Oh, Donchi... E va a giocare a Pignata... Con... I segnali di frenata... Oh, attenzione qui, eh... Ci sono tre insieme... Oh, e va fuori... Va fuori... Questo dà una... Questo dà una chance, credo... C'è una Ferrari che... Oh, e non c'è un'altra... C'è una Ferrari che va lunga... Va fuori... O forse è una McLaren, no? Sono uscito bene a capire chi era... Ehm... Però... Uh, Dorazio fuori... Dorazio fuori... Dorazio fuori... Era la terza posizione... Cade in ottava posizione... Mmm... Una sbaglia abbastanza costosa... A parte di Dorazio... Che va lungo anche qua... E va dritto... Nell'erba... E saranno altre posizioni perse... Per... Il Piotta Ferrari... Numero 25... Che cade in... Decima posizione... Alla fine... Del secondo giro... Però... Che... Che... Che primi giri... Ehm... Non abbiamo ancora finito... No! Gasperini lungo! Gasperini... In ghiaia! In curva 1... E... Rientra in pista... In un modo abbastanza sicuro... Però in tutto questo... Zanotti... Anche Viola... Quattro secondi... Davanti a Santorum... Adesso Viola... All'attacco di... Ehm... Gasperini... Però... Sembra che Gasperini... C'ha... Ehm... Non sia... Ehm... A sua agione qua... C'ha connessione qua... Mentre... C'ho... C'è quasi contatto... Tra Viola e Gasperini... Vedo... Che c'è una Ferrari che... Sembra avuto... Sembra avuto un problema... Mentre... Dietro c'è Paoli... Che è partito secondo... E sta cercando di... Rifare terreno... Però adesso vediamo cosa farà Paoli... Cosa farà Viola... Ehm... Sembra che... Viola... Abbia avuto un... Un'uscita abbastanza... Cioè un'entrata... Non ideale... Però l'uscita è dritta... Quindi... Si prende più trazione in uscita... E sta davanti alla Lamborghini di Paoli... Mentre ci avviciniamo alla chicane... Paoli prende il cordo... E quasi perde il controllo dell'auto... Però... Tiene... Però... Tiene... Infatti eccoci qua... Molto vicino ad Azzolini e a De Pasquale... Questo duello a tre... E Dorazio... Sicuramente rifare... E perché... Sentiamo in posizione... Anzi... No no... E allora la grafica di prima... Mi è un po' vagato però... Ehm... Dorazio... Ehm... Un po' è una bella battaglia... Ehm... Una Ferrari... E una Porsche... Mentre... Bagnia ha già l'ultima curva... Ehm... Non ho capito bene chi era... Ehm... Ehm... Beccagli... Beccagli... Eccolo qua... Ah... Mentre... Vediamo... Ho visto Azzolini che ha avuto... Mezzo sbaglio... Però Beccagli... Anche sacco... Sacco... All'interno dell'ultima curva... Stranamente... Ehm... Mentre vediamo... De Pasquale... Ehm... La sua Porsche... Sesta... Sesta posizione per De Pasquale... Mi chiedo chi... Chi abbia fatto un errore... Sì... Sicuramente c'è stato... Azzolini, Dorazzi... Anche... Zanotto che hanno perso qualche posizione... Vedo... Galardi dietro che però è abbastanza vicino... Potrebbe... Recuperare... Addirittura Galardi ha una delle livrette... Che è base del gioco... Che proprio viene con... Ah è Galardi quello che ha fatto uno sbaglio... Perché è dietro Azzolini... Esattamente... Però... Infatti ora lo vediamo dietro... Anche un po' avendo qualche... Azzolini va lungo... Problema di connessione... Vediamo... Scutari con il giro veloce... Uno 39... 717... Zanotto arriva all'interno... Verso il tornantino Melbourne... Vediamo se Zanotto fa un attacco... Però Galardi sembra andare lungo... Mentre ho visto dietro... Viola che sta difendendo da Paoli... Però Viola va lungo... E Paoli prende la posizione... Quindi la Lamborghini Rosa... Riprende... La... Prende la 11... C'è una posizione... Mentre vediamo Galardi... Galardi... Che va lungo... Cercando di risolpassare... Zanotto... Però cade in decima posizione... Mentre vedo che Abyss... Si sta ciugando... Sembra che Abyss si stia ciugando... Non vedo più pioggia... Piano piano... Sì sì... U attenzione Scutari... Scutari bandiera gialla... È andato leggermente largo... Anche qua... È andato leggermente largo... Eh... Qua va fuori di nuovo... Però... Sembra non aver perso posizioni... Però ha perso tanto tempo... E vediamo... Dietro Formizano... Che... Sta... Non guadagnando tanto curva... Dopo curva... Eh... Entriamo Dorazio... Che si fa molto vicino su... De Pasquale... Eh... Un... Un bel thriller... Ci stiamo vedendo qua... Nei primi dieci minuti di gara... De Pasquale va a largo... Però Dorazio riesce a prendere... L'opportunità... E Dorazio sale in sesta posizione... Uh... Attenzione dietro... Viola... Perso due posizioni... Su... Gasperini e Mas... Eh... Esattamente... Anche Biffi... Che vediamo qua davanti... È riuscito a prendere la posizione... E attenzione... Allora... Il Belisario è qua dietro... Quindi... Il Belisario prende il cordolo e va lungo... Va molto lungo... Prende la ghiaia... Però riesce a... Stabilizzarsi... Usando... L'attrito della ghiaia... Uh... 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 Ah... C'è... C'è... Un... C'è stato... Sempre che Anshikan sia... Proprio un... Un... Un hotspot per l'incenti... Così... C'è contatto dietro... Nooo... C'è contatto dietro... E tra... Emi Reitz... Emi Reitz... E Casella... Le due McLaren... Si toccano in frenata... Eh... Per il tornante... Andiamo a rivedere un attimo... Andiamo a rivedere un attimo... Andiamo a rivedere un attimo... Volevo capire un po' cosa è successo... Tra questi due protagonisti... Si sono fatti praticamente... Tutta la... Uh... Eh no... Cosa ha rischiato... Anche qui... Attenzione... Arrivano qua... Praticamente appagliati... Cercano appunto di... Di ritornare... Ecco... Insomma... Molto vicini... Però Emirates sembra averne davanti... E arrivano... Ancora sul... Rettilineo... Praticamente che porta la chicane... Dietro... Vediamo Emirates davanti... Vediamo poi... Quello che è... Penso... Padrini o Luigi... Non ricordo esattamente... Vediamo cosa è successo... Uh... Ha tagliato addirittura... Tutta la chicane... Però... Quindi voleva approfittare... Però purtroppo... Non c'era fatto... Si sono proprio agganciati addirittura... Una difesa... Abbastanza tarda... Da... Quadrini... Ah... Cioè... Che c'era Emirates... Che stava... Che stava venendo... Con tante velocità... Però... Poi c'è stato anche... Altro contatto... Che ci siamo un po' mancati... Però Emirates... Attenzione... Perché qua veramente... La lotta si accende... Io direi di metterlo anche... L'immagine proprio su Quadrini... Ma anche su Ferrari... Per proprio per far capire... Quanto effettivamente... Le persone siano in lotta... Dove un Ferrari qui con... Con Marini... E... Molto vicini... Attenzione perché... Vorrei un attimino... Cambiare l'inquadratura... Andare... Più vicino all'azione... Infatti eccoci qua... Molto molto vicino ancora a Ferrari... Si fa vedere... Sul suo compagno di scuderia... Camuso... Sia Porsche... Che... Tipo... Team... Mamma mia... Mamma mia... Che rischio... Eh si tocca... Poi c'è un contatto... Donkey... 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 Attenzione... Andiamo in Helicam... Qui per cercare di capire... Cosa sta succedendo... Tra tutte queste Porsche... Del BT Paddo... Che non solo... Praticamente... Tre avversari del BT Paddo... Che si lottano fino alla fine... Ancora 53 minuti rimanenti alla gara... Vedo qualche già ritiro... Per qualche protagonista... Intanto Zanotti 5 secondi e 6... Che diventano 6 secondi e 5... Santoro... Che sta avendo dei problemi... Evidentemente... Sta perdendo davvero tanto terreno... Adesso è 6 e 3... Quindi insomma... Ultimo giro per lui... In 1.37.2... Comunque giro sul passo di Zanotti... Però... Purtroppo è piuttosto lontano... Comunque tornando dietro... Abbiamo anche Quadrini... Che riesce a passare Persio... Che vediamo incontrato in questo momento... Sulla sua BMW... Poi vediamo appunto... Tornando dietro... Ferrari... Senza amici... E Camuso... Piuttosto vicini... E poi Luigi e Marini... Sempre lì... 53 minuti rimanenti... Vediamo... Luigi... Che... Che... Attraverso questa... La pista che si sta asciugando... Di più e di più... Su... Questo bello McLaren... 999... Con una livra... Che mi ricorda tanto... Quelle... ACRT... Infatti è proprio così... Uuuuh... Uuuuh... Mamma mia che rischio... Questa è una delle curve... Dove veramente... Si rischia il botto... Sempre... Comunque... Ma che rischio... Ehm... Però... Ehm... Mentre ci avviciniamo... Alla chicane... Di più e di più... Ehm... Però... Paoli... All'interno... E prende la posizione... E si porta in nona posizione... Ehm... Dopo... Un po' di minuti... Mentre abbiamo... Un po' di attività... Extraumane... Ehm... Con le auto che vengono forzate... Nell'erba... Ehm... Però... Paoli... In nona posizione... Davanti a Zanotto... E... Sembra che le cose... Si siano un po' calmate... In questo momento... Si... Si... Decisamente... Sembra essersi calmato... Ecco... Questo si... Però è una gara... Che comunque è lunga... Vediamo cosa può riservarci... Eh... Si... Ehm... Ci abbiamo ancora 50 minuti... E vediamo che... Attualmente... Dorazio... Appena preso il giro veloce... E vediamo anche... Una bella... Linea... Ehm... Asciutta... Che si sta formando... In pista... E... Più ti che stanno cercando di... Ehm... Guidare nell'acqua... Ehm... Avendo... Legume ha bagnato... Mentre vedo che Azzolini è appena andato... Ehm... Nella... Nell'erba... E si fa passare da Paoli... Però... Zanotto è anche lì... Vicino potrebbe anche lui... Prendere opportunità di questo... Mentre... C'è un po' di scambio... Attenzione a Marini eh... Attenzione a Marini è molto vicino ad Emirates... Vediamo cosa può fare Marini sul confronto di Emirates... Ferrari contro McLaren... Vediamo chi... Vincerà... Vediamo che Marini... Allunga la frenata all'inizio... Però Emirates... Tiene la traiettoria... In... Curva... E mantiene la posizione... Ehm... Mentre andiamo in discesa... In questa bella parte qua di Donington Park... Bellisario... C'è stato un problema... Sì... Purtroppo è uscito male... Lì... Al vecchio tornantino... Cioè... È uscito male... E sembra... Verdanni... Sì... 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 Intanto il giro veloce... Segnale di Quadrini... P16... Adesso P17... Adesso P16... Adesso P16... Sì... Adesso grafica ancora non aggiornata... Ma comunque è molto interessante... Questo dato... Segnala che veramente... C'è un equilibrio importante... Intanto Paoli... De Pasquale... Varia gialla dietro... 180 qua... Lungo, lungo, lungo... L'incrocio... Uh... È un incrocio abbastanza crociale qua... Paoli si porta in... Settima posizione... Su De Pasquale... Che... Eh... Si trova in una situazione abbastanza interessante... Eh... Dove... Adesso... Deve solo cercare di stare dietro... Mentre vediamo Durazzi... Che è andato lungo... E questo... Un'altra posizione guadagnata per Paoli... Che per il secondo giro di fila... Si trova a guadagnare... Posizione su... Perché sono andate fuori in curva 1... Quindi... Paoli in sesta posizione attualmente... Eh... Adesso... Attacco di Formisano... Eh... Si vedo anche Schiuma molto vicino qua... Eh... Mmm... Schiuma molto vicino a Scuttari... Mentre ha notato che Santoro... Sta un po' chiedendo il gap... A Zanotti... 4.8 secondi... Se parlano i due... Attenzione... Eccoli qua infatti... Zanotti... E questo qua è... Dritto... Nell'erba... Sperando che non prenda il muro... Però Zanotti... Si gira anche... Si gira anche... Quindi perde altre posizioni Gasperini... Purtroppo... Quindi Zanotti torna in decima posizione... Va lungo... Zanotti fa la stessa... Fa la stessa cosa di Gasperini... Però non... Non... Non si gira... Eh... Però Zanotti... È... Continua a stare in decima posizione... Mentre vedo pioggia che sta scendendo... Quindi la pista che si stava asciugando... Adesso si sta... Eh... Bagnando ancora di più... Con... Altra pioggia... Mentre vediamo Carlo Dorazzi... In stessa posizione... Eh... Che... È all'inseguimento di Formidano... Eh... Mentre... Eh... 184 rappresenta un drive-thru... Eh... Sì... 184... Che è Casella... In P-33... Attenzione a Dorazio... Che si fa vedere... Su Formisano... Va all'interno... Elican per noi... Cerchiamo di capire se staccherà... Ma non è qui il momento... Rischio... Nooooh... Infatti va lunghissimo... Un rischio molto grande... Da parte di Formisano... Che... Nel difendere... Eh... Perde la posizione... Andiamo su Viola... Che... In questo momento è molto vicino a Biffi... Sulla sua Porsche... Vedete lì davanti... Adesso sono 4 decimi... Andiamo magari... Una visuale un po' più vicina... Alla pista... Tanto senza amici... Bandiera gialla... In P-20... Andato fuori di pista... Infatti vedete che staccano molto lunghi... I nostri piloti... Però esce molto meglio qua... In questo momento... Viola... Un po' di attività extra normale... Intanto... Eh beh... Ma anche le... Attività aliene succedono qua... Ehm... Intanto andiamo davanti... Volevo un po' vedere i tempi di... Di Zanotti... Che è 1.368... Non male... Non male... Decisamente una buona gara al momento... Per il pilota numero 92... Intanto andiamo su... Mass... Che si sta avvicinando abbastanza su Viola... Che ha avuto un po' di problemi lì... Infatti lo troviamo dietro addirittura... Vedete... Viola fuori... Viola fuori... Secondo me è un problema tecnico... Eh sì... Sì sì sì... Problema tecnico... Addirittura vai Pit... Si ritira credo... Momentaneamente fuori dalla gara... Tanto torniamo su Camuso... P25 per lui... Grazie anche al ritiro di... Di purtroppo Viola... Che è uscito addirittura anche dal... Dal server... Quindi secondo me è un problema di connessione... O un problema tecnico... Perché comunque... È proprio fermato... Dal nulla... Cioè comunque... Era solo lì... Uh... Ci sono due Ferrari dietro che sono... Un accanto all'altra... Non... Non capito... Chi sono... Però... Stanno ancora battagliando... E vedo... Che... C'è proprio una bella battaglia lì dietro... Eh... Tra credo sacco i Gallimberti... Potrei sbagliarmi però... Eh... Mentre vediamo Camuso che... Si fa attaccare da... Farsura verso curva 1... Eh... E si fa solo passare... Quindi Camuso cade in 26esima posizione... Eh... Mentre... Adesso vediamo... Carlo senza amici... Su... San Luigi... Eh... Verso la Cican... Eh... E senza amici si ritrova a... Azzare il piede... Eh... Mentre vediamo... Luigi che... Tiene la posizione... Alla Cican... Mentre Quadrini continua a salire le posizioni... Ehm... Interessante... Attenzione a Cadorazza... Uh... Uh... Contatto... Un po' di contatto qua... Eh... Tanti doppiati già vedo... Tanti tanti doppiati... Questi sono tutti doppiati... Perché Schiuma è qua... Cioè nel senso... Per farvi capire... È lì... Però Formisano è molto dietro... Quindi tutti questi sono doppiati... E... Sono tutti doppiati... E... Questo potrebbe dare una chance a Pauli di... Di... Forse guadagnare un po' di terreno... Però è tutto da vedere... Gap comunque molto importanti per tutti... Sono passati all'incirca... Quasi 30 minuti... Però purtroppo... Chiaramente... I gap si... Si allargano... Anche per un fattore di errori vari... Che succedono durante la pista... Intanto... Da noto che si avvicina pericolosamente... Qua... In decima posizione ad Azzolin... Qua Azzolini... Scusate... Però non riesco a capire... Ecco... Quale sia il nome corretto... Va all'interno addirittura... Andiamo magari... Una visuale un po' più... Chiara... Compagno di squadra... Del GIC... Livrea molto minimal... Nera e verde... Ricorda un po'... Non so... Una livrea... Piuttosto famosa... Anche nel mondo GT... Però comunque... Anche qualche... Rimando... Alla tradizione del WEC... Comunque Zanotto... Sembra un po'... Aspettare... Che Azzolini... Sbagli qualcosa... In questo giro... Al momento appunto... Sembra lì... Aspettare per un errore... Tanto anche Dorazio... Qui stesso discorso... È lì... Vicinissima schiuma... Ma non abbastanza... Sette decimi... Aspetti che appunto... Il tuo avversario faccia un errore... Vada lungo... Tanto Emirates... Perde la posizione... Su... Senza amici... E anche su Marini... Ho visto... Quindi... Non... Non male... Purtroppo Emirates... Ha scivolato abbastanza in fondo... Eccolo infatti... Luigi che arriva... Un'altra posizione persa... Emirates... Mi sa che si ritira... Sì sì... È fermo in pista... Credo c'è un altro problema di connessione... Per Emirates... Perché... Credo sia un ritiro volontario... Credo sia un ritiro volontario... Torazio... Che vediamo in questo momento... Quarto... Ha passato schiuma... E infatti... Come dicevo... Aspettava l'errore... E infatti... Proprio così... No... Fermo proprio... È Emirates... Quindi... No... Credo sia un ritiro volontario... Abbiamo Galardi... Il quadrato qui in dodicesimo posizione... Che si avvicina pericolosamente a Gasperini... Gasperini... Un po' a difficoltà... Andiamo... Capite quanto sia difficile... Anche correre in queste condizioni... Perché non si vede veramente nulla... Fidatevi che... Qui... Chi gioca di solito con la visuale interna... Tende a mettere il cofano... Perché veramente non si vede niente... Intanto qui... Gasperini sbaglia... Va leggermente largo... Ma anche... Scusate... Galardi... Sembra avere qualche problema... Vediamo quadrini molto vicino... Qua dietro... Eccolo qua infatti... Un terzetto... E forse quadrini potrebbe approfittarne... Si fa vedere... Solo all'esterno... Adesso interno... Attenzione anche Gasperini sbaglia... Forse 3 wide... Ne approfitta... Lo stesso quadrini... Che ne prende forse due di posizioni... Però forse deve desistere... Uh... Gasperini... Uh... Mamma mia... È fuori lui invece... Entra... Un errore un po' strano lì... Molto strano come errore... Però... Persico... Ancora battaglie... Veramente non finiscono qui... Almeno stasera... Persico... Che si butta... Quasi... Quasi contatto con Mas... Però... Riesce a completare la mossa in un modo abbastanza bello su... Sulla Lamborghini... Per mettersi in sedicesima posizione... Eh... Con 40 minuti rimanenti... Abbiamo fatto 25 minuti... Eh... Questa va a vedere che... Quale... I gare passano... Cioè i minuti passano... Senza tanti problemi... Tanto Mas... Tanto Mas... 8 decimi... Tra Persico... Ma attenzione... Perché c'è un'altra battaglia abbastanza interessante... Carriera in P24... Che sta prendendo Camuso... Camuso che ha avuto un po' di problemi... E... Appunto... Vediamo se riuscirà a risolverli... Vedo... Farsura fuori lì... In curva 1... Arriva Capponi dietro... Tanti tanti errori ragazzi... Ma è dato da tanti fattori... Dal fatto che si vede poco... Dal fatto che comunque la macchina... Può avere un assetto sbagliato... Tante cose... Può essere veramente comprensibile... Specialmente in un tracciato così tecnico... Attenzione ad Azzolini... Azzolini out... Azzolini fuori... Da... Dalla... Decima posizione... Anzi... Dalla nona posizione... Trovo in undecima posizione... Quindi Quadrini sale in top 10... E Paoli sale in sesta posizione... Gasperini out di nuovo... Gasperini! Non ha bevuto il Gatorade... No! Eh... Questa è per pochi... Comunque... Tornando a noi... Biffi e Bellisario guadagnano la posizione... Sulla Ferrari di Gasperini... Che però rientra... Senza Dani... Arriva anche forse Persico... Che si avvicina pericolosamente... Arriva anche un doppiato lì... Che però... Va leggermente largo e si sposta... Comunque in maniera piuttosto sicura... Dalla traiettoria... Però ancora non basta per Persico... Avvicinarsi ecco così tanto... Forse sì però... Attenzione perché... Magari andiamo... On board... Con la BMW M4 GT3 del Broaddipo Team... Vediamo cosa può fare... Il pilota numero 86... Però noi in questa seconda sezione di Donington Park... Vediamo Gasperini davanti... Un po' in difficoltà... Che cerca... Le parti meno bagnate... Facca molto forte... La BMW comunque sul bagnato è piuttosto stabile... Quindi veramente una delle auto più comuni... Però stasera vediamo... Come al solito... Tante Ferrari... Tante Lamborghini... Qualche Aston Martin... Che sul bagnato veramente si difende... Egregiamente... E qualche pazzo con la Porsche... Ovviamente non è da più... E nessuno con la Lexus... Eh vabbè... La Lexus purtroppo... Non è il massimo ancora... È nella... È nella tomba... Uh carriera... Uh carriera... Finisce la sua carriera... Eh... Però riesce a passare Camuso... E niente... Adesso finisce la sua carriera... Va di nuovo nell'erba... Eh... Che farà sur... Arriva De Pasquale... Che è... Davanti... Quindi carriera diventa un doppiato... Praticamente... Sì... Attenzione che Zanotto... No no è un doppiato... È già un doppiato di su... Eh... Zanotto in nonna posizione... Su De Pasquale... Quindi due lotte... Praticamente... Tra chi è doppiato e chi no... Vediamo un po' cosa può succedere... Con questi piloti... Tanto vabbè... Un saluto anche alla chat... Mi sembra doveroso... Scriveteci... Chi secondo voi può vincere... Stasera... Qua... Al terzo round... Del Dynamic Weather... Stagione 2... Gara pazza... Devo essere sincero... Gara veramente piena... Di colpi di scena... Di errori... Di... Contatti... Ma... È normale... Con la pioggia... Può succedere... Attenzione perché arriva anche... Quadrini... Di su Zanotto... Vedete qua... Eccolo qua... Quadrini... Col giro veloce... Andiamo magari... On board... Per capire cosa sta succedendo... Infila forse all'interno... E... Cerca di tagliare tutto... Contatto... Eh no... Questo non si fa... Questo non si fa... Decisamente non si fa... Non si fa... Però purtroppo... È successo... Comunque ha cercato di tagliare... Il più possibile... Per evitare... Diciamo la confusione... Però non ha funzionato... Troppo amiciato... Davanti... Con 5 decimi... Vicinissimo... Comunque... Può ancora dire qualcosa... Vediamo se... Succederà... Intanto magari andiamo... On board... Con lui... E infatti è così... Scuttari... Fuori... E prende la posizione... Podio per Dorazio... Che se lo riprende... Praticamente dopo una lotta incredibile... Ritorna dove era... E forse... Forse riesce anche a riprendere... La seconda posizione... Nonostante sia... A 17 secondi... Tanto... Tantissimo... Però se andremo a vedere... Attenzione... Vediamo anche Biffi dietro... Vedo un po' di... 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 Confusione lì dietro... Biffi che si avvicina... Pericolosamente... A... Zanotto... Del Gic... Che era veramente che scompiglia le carte ogni due secondi... Biffi che può decisamente avvicinarsi... In questa seconda parte di tracciato... Vediamo Marco magari... Ci puoi dire qualcosa in più su queste curve... Io personalmente le affronterai con molta cautela... Specialmente dopo mezz'ora di gara... Anzi 40 minuti di gara... Perdonatemi... Però comunque... Io vedo troppa aggressività... Come al solito... È una costante del... Del sim racing... Sì... È una... Giusta osservazione Riccardo... Cioè... Personalmente... Io prenderei... Un po' queste lezioni qua... Un po' con... Con più calma... Perché... Eh... Guardare sulla pioggia... Non è così... Cioè... Non so... Come posso dire... Non è poi così... Facile insomma... Bisogna un po'... Essere cauti... Eh... In queste condizioni qua... E uno sbaglio costa... Molto di più rispetto... Maury... Mamma mia... Dove cerca di passare... Si mette appollaiato qua all'interno... E forse stacca anche meglio rispetto al suo avversario Schiuma... E si mette davanti almeno per il momento... Però attenzione perché Schiuma ha la scia... Parecchia scia devo dire... Esce anche molto meglio... Andiamo sulla Ferrari del 4 sotto 0... Del team... Appunto giallo-verde... Inquadrato in questo momento... Vediamo se... Riuscirà a passare di nuovo il suo avversario... Ma sembra di no al momento... Comunque Pauli è riuscito bene... Ad uscire dalla chicane... A portarsi verso il tornante... Di Donington... Comunque ancora molto vicini... Andiamo magari... On board con Schiuma... Per cercare di capire cosa riuscirà a fare nell'ultima curva... Credo un poco anche perché comunque ci sono 6 decimi tra lui e Pauli... E comunque vedete quanto si vede veramente poco... Si ritrova da solo... In... 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 Penso a compagnia... Ecco di sicuro... Esatto... Beccagli... Attenzione perché si butta dentro... Su una Porsche... Che è quella di Ferrari... In questo momento... Un po' di difficoltà per lui... Beccagli prende la ventesima posizione così... In scioltezza... E forse non è neanche l'unica... Però 7 secondi lo separano da Luigi... Gap comunque importanti... Zanotto ha perso una posizione su Biffi... Zanotto... In caduta libera... Come... Non lo so... Un meteorite... È veramente davanti... Poi è sceso di tante posizioni... Vediamo anche Azzolini... Che si avvicina al gruppo... Anche Quadrini... Che sembra forse averne un po' di più qua... Quadrini... Pasquale... Ottava posizione per Quadrini... Che... Si Quadrini che gira in 34... 34... Molto veloce Quadrini in questa parte qua... Cioè... Da... Da... Inizio è una gara che Quadrini sta... Volando un po' in termini di passo... Però... Rientra sempre una cosa che... Cioè... Proprio quando ho detto che i piotti erano un po' aggressivi... Ho visto tre piotti che sono andati fuori... Però ecco... E... Come hai detto a te... Sono un po' troppo aggressivi... Sul... Sul... Sul bagnato si può guadagnare tanto... Si può anche perdere tanto... Quindi... Non vedo... Perché non dovrebbe spingere tanto... Mentre adesso Quadrini si... Si... Si trova un doppiato davanti... A meno che non ci ascoltare... Di cui dubito... Eh... Per adesso... 31 minuti... Attività aliene di nuovo in pista... E ci scusiamo... Di questa infiltrazione con l'aliena... Però Quadrini... In... Non una posizione attualmente... Si trova... Ma... Ma lei... Dov'è che ha guadagnato la posizione? Perché De Pasquale è ancora davanti... Comunque... Segnala... Segnala aver guadagnato una posizione... Ma non è vero... Cioè... Almeno ancora no... Perché è molto vicino... Ma ancora non lo... Non ha sorpassato De Pasquale... Ok... E' ancora lì eh... Però non... Non sembra bastare... Almeno al momento... Uuuuh... Quasi contatto tra i due... Quadrini molto aggressivo... Su De Pasquale... Va sull'erba... C'è quasi contatto... E... Però... Quadrini... C'è... Come stiamo vedendo... Si sta cercando in tutti i modi... Di evitare contatto... Tanto rispetto tra i due piloti... Però... Quadrini sembra avere la meglio... Qua in uscita... Un'uscita più stretta però... Con più trazione... Si porta all'interno... Si fa vedere... Si mette dietro... Non va per la mossa... Lascia che... De Pasquale si difenda... Alla Cican... Mentre ho visto un... Un doppiatto che è andato lungo... Ehm... Però Quadrini non riesce a... A caricare un sorpasso... Ehm... Su De Pasquale... In questo giro... Quindi... Dovrà aspettare... È un'altra opportunità... Sì... Sì... Corretto... Attenzione... Va ancora qui su Zanotto... Che... Si fa vedere... Ma non basta... Eh no... Qui al momento tre secondi... Sì scusate... Tre decimi... Non... Non abbastanza per sorpassare... Era sei... Ora nove addirittura... Quindi... Gap è veramente... Uh... Va abbastanza lungo... Biffi... Ehm... E Zanotto potrebbe fare qualcosa... Ai suoi confronti... Verso Curva 1... Mentre... Marine riceve un drive-thru... Eh... Zanotto non riesce... Ad attaccare... Mentre Biffi... Mentre... Eh... Biffi... Tiene la posizione... Sì... 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 Attenzione... Torniamo su Quadrini... Molto vicino... Le posizioni davanti a lui... Sì... Ora molto vicino... Ma non basta appunto... Per superare a De Pasquale... De Pasquale si sta difendendo molto bene... Intanto Marine pit... Per drive-thru... Purtroppo per... Per tagli... Quindi... Perde tante posizioni... Purtroppo il... Piloto numero 771... Ferrari qui molto vicino... Sono un po' di... Lag... Evidentemente... Belisario... Che comunque... Si avvicina ad Azzolini... E allo stesso tempo... Quadrini si avvicina... A De Pasquale... Sì... Ancora purtroppo... Lontani... Però... Non basta... Devo dire... Per continuare... Ma la lotta... Almeno... Sembra un po' in fase di stallo... Sicuramente Marco... Questa è un po' in fase di stallo... Che è un po' triste... Visto che... La... La prima fase di gara... Era abbastanza caotica... E... Ed era qualcosa di... Interessante da vedere... Però... Attenzione a Pauli... Pauli che si è preso la posizione su Scutari... Con... Piuttosto... Una sorpresa... Scutari che è un secondo e cinque... Addirittura... Vediamo qui dietro... Non riesce a superare... Galardi... Vicino... Ma... Perde tanto terreno al momento... Abbiamo anche Beccagli e Marini... Che si sono toccati probabilmente qua... E... Ma piccola toccati... E niente di che... Abbiamo visto di peggio... Sicuramente... Attenzione a Quadrini... Scusami... Ma qui bisogna andare perché... Oh... Doppio doppiaggio... Su... Un'altra Porsche... Mentre... Pasquale continua... A difendersi... Continuando nella posizione... Quasi perde l'auto... E questo dà un'occasione a Quadrini... Di... Fare un attacco all'esterno... Vediamo cosa avrà De Pasquale... Di contro... Lo manda largo... Però Quadrini... Sembra avere un'uscita migliore... All'uscita dritta... C'è anche migliore... E adesso all'interno... Sperando di non andare lungo... L'ultima curva... C'è... C'è un tentativo di incrocio... Da De Pasquale... Però... Quadrini... Tiene la posizione... E si porta in ottava posizione... Dietro a Formisano... Attenzione a Persico... Stesso identico discorso... Ma... Con Azzolini... Vediamo cosa riesce a fare... Il pilota dei Bt Padua... Con la sua BMW... Siamo on board... Magari... Siamo un po' il motore... Della BMW M4 GT3... Auto molto particolare... Sicuramente... E sul bagnato... Devo dire... Piuttosto stabile... Comunque... Vedete che... Sono molto in difficoltà i piloti... Più che altro... Con la frenata... Sono piuttosto incerti... Su effettivamente... Dove frenare... Anche perché le condizioni... Sembrano variare... In realtà... L'entro fattore... Sì... Un doppiato... Purtroppo... Abbiamo anche Zanotto... Molto vicino... Intanto Carriera... Torna in Pit... Abbastanza... Senza motivo... Forse dei danni... Da riparare... Abbastanza gravi... Se no... Non ne vedo il senso... Anche... Intanto Zanotto... Davanti... Stesso discorso... Quattro decimi... Tra due biffi... Intanto Azzolini out... Sembra avere qualche problema... Sta perdendo varie posizioni... Ora rientra in pista... A sedicesimo... Tanto torniamo su Zanotto... Perché... Si avvicina molto... Alla Porsche di biffi... Numero nove... Vediamo appunto... Come si riesce ad avvicinare... Eccolo qua... Appunto... Che affronta tra poco... La chicane... Che porta poi... Al tornatino uno... E poi al tornatino due... E l'ultima curva... Praticamente curve speculari... In quel di Donington... Vediamo cosa riesce a fare qui... Questa fase... Mamma mia... Dove si infila... Forse l'incrocio... 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 Zanotto forse si incrocia... Attenzione... Incredibile... Potrebbe andare forse all'interno... O di nuovo all'esterno... Se vuole... Mi sa che terrà all'esterno... Perché biffi si butta... Potentissimamente... All'interno... E va... Lunghissimo... Veramente... Tanto lungo... Infatti perde... Quasi due posizioni... Arriva anche Gasperini... Molto vicino... Biffi però... È riuscito a rientrare comunque... In tranquillità... Marine ha preso la posizione su Luigi... Carriera ai box... Anche Sacco ai box... E per il resto... Gap... Importanti tra tutta... Tutta la griglia... Dai 16 secondi... Tra Zanotti e Santoro... E... Torazio... Che ne paga ben 11... Tra lui e Santoro... Veramente... Una gara... Anche difficile... Su tanti punti di vista... Intanto Gasperini... Ancora lui... Fa vedere su Biffi... Biffi in difficoltà... Biffi in tante difficoltà... E va sull'erba di nuovo... Cercando di lasciare spazio... Posso dare un po' troppo spazio... Biffi... Però... Gasperini si... Lascia passare... E... Uh... Squalifica per auto... Numero 69... Squalifica per auto 69... Comunque Gasperini lascia passare Zanotto... Eh sì... Sì sì... Sì sì... Mentre adesso c'è... Non... C'è... E Gasperini può entrare di nessuno... Uh... Che rischio lì... Sì... Sì... Comunque andiamo magari davanti... Zanotti che si riprende il giro veloce... Facevo notare a tutti voi... 1.34445... La pista si sta decisamente migliorando... Migliorando... Santoro gira in 1.35... Dorazio 1.348... Paoli 1.354... Anche Bellisari 1.348... Quadrini 1.350... Quindi sì... Loro sono... Quelli che stanno andando più veloci di tutti... Quadrini sta recuperando un bel po' Su chi è davanti a lui... Vedremo appunto... Se tutto quanto si concretizzerà... Attenzione a Gasperini di nuovo... Gasperini di nuovo... E si fa vedere su Biffi... Attenzione anche a Schiuma però davanti... Qui sono le posizioni che contano... Top 10... Addirittura top 5 forse per Schiuma... Che si avvicina parecchio... Vista praticamente adesso da umido... Neanche troppo da bagnato... Quindi condizioni miste... Vediamo un po'... Vediamo un po'... Ecco... Attenzione dietro un altro... Comprende di squadra del 4-0... Lì... Che va leggermente lungo... Attenzione anche... Un doppiato che va molto lento... Non è ideale... Guardate quanto parzializzano i vari... Piloti... Comunque tanto Gasperini... Mandiraggiale esce fuori... Forse arriva Persico... Discesa qui... Poi si scende... Facciamo un giro a un bordo... Magari con Schiuma... Per cercare di capire un po' le traiettorie... Qui si va leggermente larghi... Poi qui addirittura... Attenzione a non andare troppo esterni... Si segue questa linea di mezzo... Attenzione perché Belisario... Si prende il giro veloce... Uno 34 e 362... Buon giro decisamente... Per il pilota dell'Aston Martin numero 4... Comunque qua Schiuma... Che ci fa vedere anche la traiettoria... In quella delle curve del secondo settore... E attenzione... Anche un po' conservativo devo dire... Nell'uscita... Perde un po' da scultare... Infatti 1 e 1 per lui adesso... Proviamo su Persico... Sempre on board... Cercare di capire se riesce a recuperare Gasperini... 21 minuti rimanenti... Dalla fine di questa gara... Vediamo un po' cosa ci servirà... Questi ultimi 20 minuti... Marco che ti aspetti... Cambieranno gli equilibri... Oppure Zanotti ha già la vittoria in pugno? Potrebbe succedere un po' di tutto... Però in questo momento... Zanotti... Ha la vittoria in pugno... La gara non è finita... Fino a quando non è finita... Fino a quando non vedo... Il primo che va sulla bandiera a scacchi... La gara non è... Neanche parzialmente finita... Però adesso... No... Decisamente... Comunque Bellissario oggi è veloce... Aston Martin che ruba il giro veloce a una Lamborghini... Su condizioni che si stanno migliorando... In questo momento... Sì ma... È solo questione di tempo che... Venga rirubato il giro veloce... Eh sì... Si fa vedere... Però non c'è spazio qui... Gasperini chiaramente si difende abbastanza bene... Skoda un po' in uscita... Il pilota della Ferrari... Però qui Persico ha una buona occasione... Si fa vedere all'esterno... Spererà che Gasperini vada lungo... E lascia aperto un portone lì... Però non ne approfitta Persico... Anzi forse cerca di fare un'uscita un po' migliore... Così non è... Persico che si fa vedere qui ancora... Ultima curva... Traiettoria esterna per lui... Interna per l'avversario della Ferrari... Qui lungo... Lungissimo... Nell'erba... Vediamo due out... Si trova un amico... Dove andare nell'erba... Ancora uno... Però passa Luigi... Si porta in... Ventesima posizione... Esattamente... Esattamente... Intanto vedevo anche appunto... All'Aimon qua dietro... Che si sta lottando... Con Pauli... Con la Porsche... Però 66 lì davanti... Intanto qui un doppiato addirittura... Anzi un doppiato... Più che altro un avversario ma che è molto davanti... E si trova a lasciarlo passare... In questo caso penso sia Pauli con la sua Lamborghini... E c'è Pauli Porsche... Se così possiamo chiamarlo... È lì dietro che se la lotta... Con... Con Alaimo... Lì molto vicino... Tanto Gappo che non cambiano... Santoro però sembra averne di più... Ultimo giro... Con Fucsia... Uno 33 e 960... Primo giro sotto il 34... Direi decisamente molto buono da parte sua... Staremo a vedere appunto che cosa potrà combinare... Vediamo un po' ecco... Sta recuperando su Zanotti... Attenzione 13 e 6... 13 e 5 adesso... Scende piano... 14 e 2 l'ultimo per tempo... È questione di tempo... Dobbiamo vedere se appunto ne avrà abbastanza... Per recuperare Zanotti... Che gira all'incirca... Un secondo per tempo... Forse è anche plausibile... Da un po'... Mission Impossible... Sì Mission Impossible... Ma fino a un certo punto... Esatto... Però 14 secondi... In 17 minuti... La vedo un po' come una... Un'impegna difficile... Attenzione... No eh... No... L'ho gufata... L'ho gufata... E Zanotti perde l'auto... All'uscita del tornantino vecchio... E... Questo... Sarà di grande impatto... Verso... Eh... Cosa potrebbe fare Santoro... Che... Attualmente sta ancora guadagnando tempo... Dopo aver... Eh... Doppiato Gasperini... Adesso aspettiamo la prossima linea di... Eh... De settore per capire... Quanto... Di quanto si è ridotto il distacco tra i due... Adesso è a 5 secondi e 9 e 6 secondi adesso... Abbiamo perso... Sette... Più secondi... Eh... Con... Uno sbaglio così... Quindi... Se... Ah... Quadrini è ripreso il giro veloce... Però se... Se Santoro continua questo passo così potrebbe anche riprendere Zanotti per la fine gara... Però è tutto da vedere con 16 minuti rimanenti... In una pista che sta migliorando... Termini di condizioni... Vediamo Bellissario che... Sette guardando De Pasquale che va lungo... E va sull'erba... Quindi... Una... Una posizione abbastanza facile da prendere... Eh... Che è stata presa... Mentre... Torniamo dentro con Persico... In 15esima posizione... Dietro a Gasperini... La Ferrari numero 27... Che si deve difendere... Da... Da un BMW molto largo... Eh... Per... Tenere la 14... In prima posizione... Mentre... La tercera è a Santoro a 4 secondi... Esatto... 4 secondi... Quindi... Potrebbe essere qualcosa di... Di serio... Santoro molto veloce in quest'ultima parte della gara... Mentre Zanotti... Sta facendo... Molta fatica... Non solo a tenere la prima posizione... Ma anche a tenere il passo che aveva... A inizio gara... Rispetto agli altri... Ehm... Però... Tutto... È ancora da vedere... Forse... Santoro potrebbe fare uno sbaglio... Oppure... Zanotti potrebbe farne un altro di suo... Però è stato uno sbaglio molto raro da parte di Zanotti... E questo potrebbe... E non... Cioè... Non lo passa... E lascia a mantenere la posizione... Anche se... Questa... Mossa qua... È un'altra parte di Zanotti... È un'altra parte di Zanotti... Ehm... Forse ci sa da... Da ridire qualcosa... Questa... Rientro e pista... E biffi... E va fuori... Santoro out... Noo... Santoro... E vediamo se è successo... Vediamo il replay... Vediamo il replay... Abbiamo Santoro che comunque affronta... Era circa tre secondi e mezzo... Dal... Sotto avversario... Si ritrova però... Per i doppiati... E infatti siamo qui... Che affronta il suo giro numero uno... Almeno... Nel suo giro... Arriva qui... In questo caso... Cari con una... Camera... Vicina... All'azione... Abbordini con il suo V10... Piuttosto potente... Vediamo che affronta... TandyCourt... E poi anche... Il tornantino vecchio... Arriva... Stacca molto bene... Si appoggia sul cordolo... Visti molto lento... Vediamo cosa succede... Biffi va largo... Prende... Noo... Noo... Eh... Biffi ha preso... L'erba e... Ah... Che sfortunato... Che sfortunato... Che sfortunato... Che peccato... Santoro... Era molto veloce... In quest'ultima parte qua di gara... E sembrava che potesse... Anche vincerla... E... Niente... Alla fine... Abbiamo avuto due colpi di scena... In pochi... In poco tempo... Adesso abbiamo... Santoro... In terza posizione adesso... Però... Con danni... Si farà... Molto probabilmente... Verrà passato da Pauli... Però adesso c'è... Dorazzi... In seconda posizione... Adesso... Attenzione qua... Cosa sta succedendo... Che rischio... Che rischio qua... Che rischio... Mamma mia... Un rischio molto grande... Ancora Biffi che... Veramente... Sta causando non pochi problemi... Arriva di nuovo... Dorazzi... E scusate... Santoro... Si fa vedere ancora... E qui però blocca... Completamente... Non sta più un doppiato... Non bene... Non bene... Non bene... Non bene... Galardi... Tornando davanti... Ancora 8 decimi... Tra lui... Vedo anche Paoli... Quarta posizione... Ah... 9 decimi... Toro... Ha recuperato un bel po' Cioè... Bene... Beccagli fuori... Ha avuto un problema... E vedo anche Biffi... Che ha perso una... Gasperini... Caduta libera... Per il... Uh... Biffi... E infatti... Biffi... E qualcuno... Forse dovrà... Spiegare alcune cose a Biffi... E dopo questa gara qua... Ehm... Attualmente... Si trova... Persico... Con una mossa... L'ultimo... Una bellissima mossa pulita... All'interno... Per... Megasurpass... A parte del piatto BMW... Per portarsi... Nella top 15... Tanto... Vediamo anche Galardi... Un pochino... Da no... Tiamo di... Fare... Ford... Uh... Molto in frenata... C'è esatto... C'è molto... Prendo il cordolo in uscita... Con... Quasi diciamo... I rimanenti... Ehm... Galardi... Molto... Molto... Aggressivo... Però... Si trova... Perde tanto in uscita... E... Probabilmente c'è Zanotti... Dietro... Quel... Si... È Zanotti... Quindi... Lascia passare Zanotti... Il leader della gara... Ehm... 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 Biffi ai pit... Biffi ai pit... Purtroppo... Tanti danni per lui... E decido... Tornare a 10 minuti dalla fine... Vedo che... C'è un gap più... Tanti davanti... Tornare a Zanotti... Tornare a Zanotti... Direi che la gara ormai è... Quasi terminata... Infatti... Paoli... Mm... Paoli... Molto vicino a Santoro... Che probabilmente ha ancora i danni... Da... Prima... Quindi... Paoli deve solo... Si... Infatti... Santoro c'è ancora i danni... Quindi Paoli deve solo fare una mossa... Veloce... E pulita... Per... Per guadagnare una posizione... E... Qui intanto... Stop and go 30 per Biffi... Che mentre stava ritornando ai box... Purtroppo... Troppo veloce... Ha accelerato... Prima della linea... Dei 50... Che è beccato... Una penalità piuttosto importante... Che mette fine... Alla sua gara... Vedo anche... Paoli molto... Un po' lontano... Non mi capire... Un po' lontano... Un po' lontano... Per fare un sorpasso... In questa sezione qua... No... E' girato... Paoli... Perde l'auto in frenata... L'abbiamo visto nelle prove questo... L'abbiamo visto nelle prove questo... Che se tu prendi... Il cordolo così... In frenata... E... Mentre... Specialmente mentre stai sterzando... Poi ti scivola l'auto... E non diventa... Bello... Peccato per Paoli... Che comunque... Deve mangiare la foglia... A contentarsi... A quarta posizione... E si avvicina... Anche molto velocemente... Quadrini intanto... Vabbè... Come immaginavo... Veloce di... 33... 422... Si sta avvicinando... Cormisano... Era più di 10 secondi... Ora 3 secondi e 3... Vediamo cosa riuscirà a fare... Il pilota 15... A cercare di ricoprire una gara... Intanto Luigi senza amici... A posizione... Vedo tanti ritiri... Rimaste 8 macchine... E quante erano... 35... E 35... Ah... Onesto... Abbiamo... Allaimo IP... Fermi... Vabbè... A parte B... Che deve scontrare la sua penalità... Penso... O stia uscendo adesso... Dopo un po' di... Tempo passato alla pit lane... Un po' come direbbero nel calcio... Doccia fredda dopo il cartellino... Comunque... Parlando a noi... E gap importanti... In questo momento... E forse l'unico è Calardi... Che si avvicina a Zanotto... Adesso... Prende e riprende... Un po' più remolio... Ultimi... Minuti di gare... Vediamo un po' di... Stiamo vedendo un po' di... Colpi di scena... Un po' inaspettati... Ehm... Così... Così per finire la gara... Bene... Ehm... Però... Galardi... Un secondo e cinque... Dietro a... Zanotto... Perde... 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 Un po'... Fatto rotavo... Vabbè... Dei buoni giri da parte di... Camuse... Che abbassano il pro best... Vedevo anche... I giri davanti... Veramente... Alti... Alti... Aspetto a Quadrini... Che ha girato in ultimo... 33,7... Formisano... Uno... 35,1... Secondo e pezzo più lento... Infatti... Si avvicina sempre di più... Magari... Per essere così... Guarda quanto è aggressivo qui... Si... Molto aggressivo... Sembrano avere... Ho tagliato 7 decimi in una curva ragazzi... 7 decimi... Infatti... Eccolo qui... Mamma mia... Eh no... Uh... Che rischio... RISCHIO... Che rischio signore... Che rischio... C'è quella 7 da Formisano... Eccolo qua... Lì davanti... Vi fa vedere qua... Paoli... Un doppiato... Deve farsi da parte... Quando era... Blupper lui... Non è Paoli... Ma è Paoli... Paoli... Eh no... Paoli con la Porsche... Ma Paoli è su Lamborghini... No... Ci sono... Paoli... E' sulla Lamborghini... Ah... Porsche... Obbliavo... Obrigado... Come direbbero... Oppure... Desculpe... Obrigado... Radarone... Quadrini... Un S4... E' 4 adesso... E' Likam... Magari... Per cercarli capire... Che avvicino... Abbastanza... Danno ultimo giro... Per quadrini... Uno 34 e 5... Sono uno 35 e 3... Che... Quadrini... Può... Qualcodo... La gara... Intanto... Gappo... Che... Continuano... Ad aumentare... L'unica è farsura... Che si è avvicolto... A Paoli... Parlando... E se non sbaglio... Ora non vorrei dire... Una cosa non vera... Ecco... Paoli... Paoli... Sono padre figli... E... Ah... Interessante... Ora magari... Ho detto una cosa sbagliata... Spero di no... Però... Sapevo di sì... Membri di famiglia... Esattamente... Ma non sono gli unici... Non sono gli unici... E' anche senza amici... Credo... Sì... E' un po' bello... Bello vedere queste cose qua... Intanto... Andiamo su Quadrini... Che è arrivato... Fa vedere... Dall'interno... Magari andiamo a board... Eccoci qua... Dall'interno... Il primo giro di schiuma... 1,36 e 2... Quadrini... 1,33 e 3... Serve ad aggiungere altro... Ovviamente no... Ma attenzione... Un super giro di esame... 1,32 e 957... Gran gran giro davvero... L'unico a scendere sotto... 33 al momento... La pista si sta migliorando... Sto migliorando di gran lunga... Eee... Quanto doppiare che non si sposte... Oh Quadrini... Ecco... Paoli si deve spostare... È un doppiato... Va fuori... Formigliano... Eh si... Molto lungo... Teniamo l'auto qui... Sul verde... Ciccola... Direbbe un noto pilota di rally... Con Maxi... Ciccola... Attenzione... Perché vedo una Porsche... Lì fuori davanti... E' molto particolare... Quindi... Quel di Donington Park... Porniamo però su Persico... E ancora... Ora... A vedere su... Zolini... Forse potrebbe... Darne... Una Zolini... Che deve lasciare... A destra... C'è anche a Capponi e Paoli... Capponi che ha preso... Anzi scusate... Perso... Paoli... Sulla Porsche... Fatto senza amici e pit... Senza amici e pit... Non so perché... Sicuramente... Persico... Per lui... 5 decimi... Su... Azzolini... Per la... 13 decima posizione... Con... 250 rimanenti... Proprio ultimissimi giri... Quindi... Vediamo più volte che... Eh... Esiteranno di meno a fare una mossa... In questi... Questa... Attenzione... Perché ho notato una cosa... Quadrini si è dis... Nesso... No... Quadrini si è disconnesso... Non vedo più... Colpo di scena... No quadrini c'è... No quadrini c'è... Adesso è disconnesso di nuovo... Eh sì... Ora è sparito... Giuro che c'è... Per almeno mezzo secondo... Adesso è scomparso... Poi è scomparso di... Troppo... Out... Quadrini... Mi spiace... Problema evidentemente di rete per lui... C'erano tanti problemi di rete... Perfetto... Quanti... Saranno anche... Server pieni... Tante cose... Comunque... Persico che si avvicina molto... Ma anche Schiuma lì davanti... Anche per far vedere... Altri protagonisti... Per vedere... 5 secondi... 5 decimi... Guardate... Molto... Passo... Dare... Ancora non abbastanza però... 1 minuto e 40 alla fine di questa gara... Forse saranno un giro... Due giri... Due giri... Giri alla fine di questa gara... Sì... Dissi che sono... Due giri... Poi anche dipende da... Dov'è Zanotti in questo momento... Però... Con... Una McLaren in meno... Zanotti sale in decima posizione... Sì... Buono decisamente... Però... Basta... Dei decimi... Per te... Per guadagnare la quinta posizione... Attenzione perché c'è Bellisario... Stanno in alta difficoltà... Tantissime difficoltà per... Il... Il pilota di Aston Martin... Intanto inizia l'ultimo giro... Zanotti... Passa sul traguardo... Farà appunto... Un giro... Un giro e mezzo per... Quasi tutti... Qui... A parte questo... Vedete qui che... Scadrà... Avrà scaduto il tempo... Praticamente tra... 30 secondi... Saranno ancora... In un giro... Valido... Tra l'ultimo giro per loro... Intanto qui un po' di problemi per Forbittano... Che esce qua... Abbastanza male... Vi fa vedere... Un po' incerto... Però deve fare l'attacco adesso... Manca 10 secondi... Ora... O mai più... Rettilineo... Poi Cicanna... Attacca bene... Ma un po' conservativo... Ora non basta... E credo che... Non ci sarà... Alcuna speranza... Un errore per... Forbittano... Forse qui... Attenzione... Dopo... Piaggio... Attenzione... Forse qui le chance... Si... Riaccendono... Bellisario... Vi fa vedere... Ultima curva per entrambi... Vanno insieme... Forbittano qui va molto cauto... Chiaramente... Al vantaggio... E' così... Chiude... In questo momento... Formisano... In settima posizione... Fa una grande prestazione... Che non è finita per loro... Almeno... Fino a questo momento... Che... Zanotti... Ha... Ha finito... All'ultima curva... Sta arrivando... E dire di andare con una Elican... Per lui... Anzi... Qualcosa di più... Grandissima gara... Grandissima vittoria... Per Zanotti... 18 secondi... Devo dire... Doppiato dall'inizio... Finne... Dorazio... In seconda posizione... Che arriva... Tra un po'... Chiaramente... Tre quarti di auto... Prova a farsi vedere... Però... Non è abbastanza... E' quindi... Formisano... Settimo... Bellissario... Ottavo... De Pasquale... Finisce... In nuova posizione... Ehm... Mentre... Aspettiamo... Che... Finiscono... E c'è contatto... E' poco dopo... Il... Ehm... Il termine della gara... Biffi... In 22esima posizione... Dopo... Una gara abbastanza avventurosa... Ehm... Farsura... 23esimo... Senza amici... Ehm... 25esimo... E così... E' finita una gara... Che... Gara che è stata... Un... Un'ora e cinque di puro divertimento... Ehm... Cosa ne pensi... Riccardo? E' una gara... Complessa... Veramente... Tanti contatti... Vado a dire... Almeno... Direzione gara... Questo sicuro... E... Gara... Che... Parleremo per un po'... Gara veramente... Tosta... Per i piloti... Veramente... Ehm... 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 Siamo giù... La conclusione... Di questo evento... Molto bello... Veramente... Per questa gara per voi... Ci vediamo... Domani... Con le Mazda MX5... A... Daytona... SvKR... A cui ci ricordiamo ancora... Posti aperti... Magari non avrete la livrea... Ma i posti sono... E giovedì... Con il driving Italia... E il Porsche... Cap... Sempre qui su... Parferme... Twitch... Sempre con noi... Lovi... è... Che... Avig... orc...